per il nostro appuntamento domenicale lasciate che vi illustri a voce un circolare che ho mandato agli aficionados in settimana alla mia pensione ci penso io è una newsletter che è diciamo sulla scena da credo vent'anni per cui diciamo il messaggio è che alla domanda ma io riuscirò mai ad andare in pensione soprattutto con quale ammontare di denaro io riuscirò ad andare in pensione senza morire di fame questa newsletter senta di rispondere dicendo delle cose che sono credo molto sensate diciamo questa questa circolare è stata mandata perché è nata una versione però di questa newsletter allora qual è il punto fondamentale il punto fondamentale è che quando si parla di pensione soprattutto in un momento che dura da tanto tempo in cui i rendimenti delle obbligazioni sono ridicole i fondi comuni hanno dei rendimenti che sono più più o meno ridicoli anche loro per cui diciamo non ci sono veramente non parliamo delle assicurazioni o delle assicurazioni tutto quello che è diciamo di integrativo per la pensione tutto a tutta rendimenti ridicoli ecco in tutto questo si dimentica che il posto più sicuro e profittevole dove mettere i soldi detto l'ho scritto qui sono le azioni delle aziende di cui compro i prodotti perché ma perché se io compro i loro prodotti se compro il dash per lavatrice della Procter & Gamble vuol dire che il dash per lavatrice è un prodotto buono anzi è un prodotto ottimo eccellente eccezionale per quello che deve fare ovviamente cioè lavare la biancheria se questo è vero probabilmente come è vero il dash per lavatrice è il leader di mercato il prodotto più venduto se un prodotto è il prodotto più venduto ha una caratteristica che essendo il leader di mercato il pubblico lo vuole lo compra perché sa che si può fidare di quel prodotto e quindi è disposto a pagare ragionevolmente il prezzo massimo possibile che si può pensare di pagare per un detestivo per lavatrice questo significa che la Procter & Gamble su quel prodotto lì ci fa degli utili che vuole lei e non solo ma che questa situazione dato che è una situazione che riguarda il consumo questa situazione andrà avanti nei secoli futuri è molto difficile scalzare un leader di mercato il leader di mercato è inattaccabile per definizione proprio perché è talmente penetrato nella nella diciamo nella nella nell'inconscio collettivo nell'inconscio nel conscio collettivo che è difficile scalzarlo e quindi continuerà a fare il prezzo del mercato e quindi continuerà a fare soldi in futuro quei soldi mi torneranno indietro perché se io sono azionista della Procter & Gamble mi vengono poi distribuiti dei dividendi ma non è solo quello è anche il fatto che se io sono azionista da Procter & Gamble il titolo continuerà a salire perché ma perché una parte degli utili da Procter & Gamble mi reinvesterà una parte mi da me sotto forma di individeri una parte mi reinvesterà e quindi diventerà sempre più grossi e aggredirà dei paesi che in questo momento di detersivi per lavatrice sinceramente non riescono a utilizzarli e però utilizzarli in futuro il leader di mercato è questo è inattaccabile sostanzialmente e quindi se io sono un azionista di nuovo i miei soldi sono nel posto più sicuro possibile aggiungo anche un'altra chiosa in questi giorni qua è venuta fuori la paura dell'inflazione ma l'inflazione che cos'è? L'inflazione è l'aumento di prezzo dei prodotti e ma se Procter & Gamble vede il mercato il prezzo del dash per lavatrici lo farei e quindi lo aumenterà perché il consumatore non ne può fare meno deve per forza comprarlo non comprerà più la bambolina non comprerà più un giornale ma il dash per lavatrice lo deve forza comprare perché ha lavatrice non solo ma deve pulire i vestiti perché sennò sfigura perché sennò puzza cioè per mille motivi è una situazione inattaccabile ovviamente sto parlando del dash ma sto parlando sapete benissimo che sto parlando di tutti i leader di mercato che ci sono e anche quelli che diventeranno che sono già leader di mercato in un segmento molto nuovo tipo le auto elettriche sapete benissimo di cosa sto parlando dov'è l'inghippo? chi vi vuole vendere un prodotto che non rende niente ma che ha un rischio che è ben nascosto come sono milioni di risparmiatori e quelle robe lì vi dirà che le azioni sono rischiosi intendendo dire che il prezzo varia giorno per giorno sì questo lo sappiamo benissimo ma questo non vuol dire rischio questo io rischio è che il titolo oscillando oscillando però magari a un certo punto continui a scendere continui a scendere inarrestabilmente faccia da fine che ne so di Parmalat tanto per fare un nome qualunque no? questo sì questo c'è però sappiamo anche come controbattere a questi rischi diversificando il portafoglio e soprattutto andando a cercare dei titoli che non sono chiacchierati no non sono chiacchierati perché sono pieni di debiti parliamoci chiaro a Parmalat era pieno di debiti si sapeva da lungo tempo che aveva dei grossi problemi per cui la ricetta è quella rischi titoli grandi titoli grandi titoli buoni tanti è tutto così facile allora no non lo è perché bisogna tanto per cominciare sapere che vogliamo comprare il portafoglio e perché lo vogliamo comprare e poi dobbiamo decidere dobbiamo avere delle regole delle regole dei protocolli delle regole dei protocolli che mi dicono quando comprare quanto comprare quando vendere e quanto vendere mica si deve vendere tutto il portafoglio a che prezzo a quanto ammontano gli stop loss i take profit c'è bisogno di un certo numero di informazioni che fanno una strategia di acquisto e che diversificano il portafoglio e che vanno a cercare i titoli buoni fra quelli eccellenti ecco di questo si occupa la newsletter la mia pensione ci penso io che vi ho detto adesso è uscita in una versione pro quindi diciamo tutti tutti i sottoscrittori tutte le settimane ricevano il suggerimento di un titolo il prezzo massimo a cui acquistarlo stop loss take profit dai uni size quanti titoli comprare per mediare tra la possibile perdita e il possibile guadagno se vengono usati degli screeners particolari in pro real time questi vengono vengono regalati vengono inclusi nella newsletter per cui è un ripeto è una newsletter che è sul mercato da 20 anni e tra l'altro non occorre avere molti soldi perché si tratta di un portafoglio di investimento ogni acquisto vale 500 dollari ma trattando su un portafoglio di investimento si compra se si hanno i soldi che magari provengono dal fatto che certi stop loss sono stati catturati no? bene quegli soldi li investiamo e poi vabbè se non ho i soldi aspetto aspetto la prossima newsletter non c'è mica nessuna freghezza eh tenete presente tenete presente l'ho scritto qui da qualche parte eccolo qua che nel 2000 Apple si comprava per l'equivalente di 62 centesimi per azione allora il prezzo non era 62 centesimi 62 centesimi è il prezzo equivalente che tiene conto di tutti i dividendi che ha pagato nel frattempo quando li ha pagati cioè negli ultimi tempi ma soprattutto negli aumenti di capitale ecco nel momento in cui scrivo vale 172 dollari quindi se voi avessi investito 10 mila dollari allora oggi possiederebbe 2 milioni e 800 mila dollari attenzione li vedrete mai nella vita 2 milioni e 800 mila dollari? forse sì la maggior parte di voi credo di no in fondo sono passati solo 22 anni non è che sia passato poi un'eternità cioè per possedere 2 milioni e 800 mila dollari posso anche aspettare 22 anni per cui credo che sia una newsletter buona ben fatta che risponde a un certo numero di esigenze che è quella di avere una pensione prima e quella di combattere l'inflazione secondo buon lavoro